E ciao a tutti! Come potete vedere oggi voglio parlarvi di Better Than Any Man, un'avventura di Lamentation of the Flaming Princess, una cosa un pochino diversa dal solito, ma intanto diamosi un'occhiata e ciao a tutti! Ed ecco a voi, Better Than Any Man, un'avventura abbastanza impegnativa, devo ammettere, in pieno stile Lamentation of the Flaming Princess, cioè molto di più di quanto non sembra, tanto, naturalmente come tutte queste piccole chiacchierate sulle avventure, cercherò di restarla il più possibile spoiler free e naturalmente più andremo a chiacchierare più qualcosa mi scapperà, quindi sapete voi, ma intanto di cosa stiamo parlando? Better Than Any Man, eccola qua, è un'avventura mastodontica, scritta direttamente da James Edward R.G. IV, che di fatto è l'editor di Lamentation of the Flaming Princess, e nacque come un prodotto per il Free RPG Day. L'opera adesso è stata ristampata, per essere messa anche in distribuzione, si presenta come un cartonato in bianco e nero, con la copertina e l'interno, cioè la seconda e la terza di copertina a colori, meglio con le risguardie a colori, scusatemi, con le risguardie a colori e tutto il contenuto in bianco e nero, in un mastodontico 100 pagine di una grammatura veramente impegnativa. Ecco a voi Better Than Any Man, allora, l'opera è, come sempre partiamo da alcuni presupposti fondamentali per parlare di un'opera di Lamentation of the Flaming Princess. Tocca temi abbastanza forti, ci sono delle situazioni molto spinte, in alcuni momenti ho avuto difficoltà a staccarmi dalla scrittura, da quanto mi aveva coinvolto anche a livello viscerale, era molto forte ed era molto avvincente, ma molto forte, ma molto forte. Una cosa che adoro, che ho adorato in questa avventura, prima di cominciare, è che all'inizio c'è una pagina che sono le note dell'autore. È un'introduzione che fa proprio raggi, in cui dice all'inizio di quando ha realizzato Better Than Any Man, che doveva essere una semplice avventura da aggiungere a un quick starter, ma in realtà gli è scappata di mano e si è trovata questa cosa mastodontica, e poi, oltre rapidamente una piccola modulo che poter appeggare l'avventura a qualunque setting, considerate che Lamentation of the Flaming Princess è da considerarsi un retro clone in tutto e per tutto, quando ancora gli old school erano clonati dai vecchi stili, è un retro clone, di fatto è una scatola rossa, è un back me, e tutto quello che può essere un sistema da old school ci funziona perfettamente. L'idea di fondo è questa partenza che voglio raccontarvi, pagina 3, ok? Avventure background, background dell'avventura. Carsted 1631, le armate di Gustavo Adolfo stanno avanzando attraverso il Sacro Romano Impero, e puntini puntini, cosa cosa? Storia? Sì, l'idea dice lui è storia. Si parla della guerra dei trent'anni, Gustavo Adolfo, cattolico contro i luterani, è calata completamente all'interno della storia, è accalata durante la discesa delle truppe svedesi verso sud e le loro avanzate nella conquista completa in un periodo preciso storico. Poi, come dice lui, chiaramente viene fortemente modificato l'aspetto storico in base alle esigenze dell'avventura, e naturalmente si parla comunque di un setting fantasy, anche se però dice, partiamo da un presupposto di un low fantasy circondariale, la magia c'è, però molta magia è vista estremamente male, infatti c'è molta stregoneria, c'è caccia alle streghe, c'è poca magia istituzionale conosciuta, e ben poca è accettata. In questo momento, nella guerra dei trent'anni, si parla di questo momento preciso della discesa di Gustavo Adolfo, il cattolico, e di fatto la situazione di guerra che ne circonda. Si parla di un punto preciso, che è esattamente quello che vi dicevo sulle risguardi a colori, si gioca tutto quanto intorno a Karstrad e alla discesa dell'esercito dal nord, fino ad arrivare alla città di Wurzgurt, scusatemi per la pronuncia dei nomi, faccio il possibile, non è semplice, ok? Tutto quanto cosa nasce? Nasce dal fatto che nella città di Karstrad, che di fatto è il centro della nostra avventura, ad un tratto cambia il set d'assetto politico. In maniera improvvisa, irrepentina e inaspettata, il potere passa in mano ai sette. Queste sette figure, che sono sette utilizzatori di magia, prendano il potere nella città di Karstrad e radicalmente la modificano a livello politico. Da questo momento in poi l'avventura inizia. I giocatori possono essere intorno alla città di Karstrad e cadere all'interno delle tantissime cose che possono succedere in questi territori, e vi giuro c'è della roba pazzesca, poi farò degli esempi, oppure essere già nella città, o avvicinarsi alla città. Il concetto di fondo qual è? Tutta la trama ti convoglia a andare a vedere cosa succede in questa città. In questa città, Karstrad, come vi dicevo, il potere passa in mano a questi sette, sono sette stregoni, sono sette maghi, sono sette maghi donna, esattamente, di cui ce n'era anche uno che purtroppo non c'è più, e tutto gira intorno a questo punto, almeno all'inizio. Ovvero, loro hanno dei nomi fittizi, vengono chiamati la madre, la provisionatrice, la gioia, il difensore, l'osservatrice, e ce n'è uno che è il The Maker, colui che fa, con lei che fa, e di fatto Gabriel Bauer, il personaggio, e tutto gira intorno a questo incantesimo, un incantesimo di livello 1, che si chiama A Spell to Grant One Heart's Desire, un incantesimo per garantire il desiderio di un cuore. L'idea è che lo spellcaster, cioè il lanciatore dell'incantesimo, al cui medio dell'incantesimo si deve uccidere, e tutti quelli che si trovano intorno a loro devono avere in quel momento un desiderio specifico. Se il desiderio è lo stesso per tutti quanti, a quel punto il desiderio si avvera. E infatti Karstrad, d'un tratto, ha tra le mani una nuova catena di potere. Ci sono i sette. I sette che hanno un pensiero clamorosamente progressista, estremamente progressista, senza più differenze razziali, senza più differenze di sceto, completamente antiviolento, nonostante il contesto di guerra che li circonda, bannando completamente l'utilizzo delle armi all'interno della città, un sistema giuridico semplificato, tutto un pensiero progressista sociale, con questo nuovo schiera di potere che le circonda. Questa sarebbe la partenza, circondata completamente da profughi che si stanno avvicinando alla città per l'arrivo dell'esercito da parte del nord, l'esercito svedese, questo è l'inizio dell'avventura. Dove sentite questa cosa di Lamentation? Qui dentro a colpo d'occhio non c'è? Beh, posso solamente dirvi che come ci mostra la copertina, i sette sono accompagnati da delle strane creature, nessuno ne sa niente, ma ce ne sono, ognuno ha dei poteri eccezionali, non vi racconto, sono della roba completamente pazzata, completamente fuori di testa, sparata a duemila, e già questa è la partenza. Questi sette hanno queste strane creature, non si sa il motivo, non si sa da dove arrivano, e una delle cose che ho adorato e che mi ha obbligato anche a fare delle ricerche è che in quel punto specifico Raggi ha aggiunto con non cercate all'interno del manuale, non cercate all'interno della trama del dio insetto, te lo dice questa pagina 10, non sai che cos'è il dio insetto, ok? Non cercate nella trama del dio insetto il perché queste creature siano accanto a questi sette. Non ci sarà una risposta, se la cercate lì siate semplicemente lesi, cioè siete pigri, questo è quanto. Di fatto queste creature hanno dei poteri eccezionali, non hanno alcuna capacità di comunicazione, non riescano a parlare con i loro protetti, perché nessuno dei maghi ha un incantesimo per evocare, quindi non si sa da dove arrivino. E questo è proprio un vuoto che ha voluto lasciare completamente Raggi, ne lascerà diversi in questa avventura, tra cui per esempio uno è la Torre Infinita, ma non aggiungo altro, so solo dire che se la trama non va come deve andare potrebbe essere distrutta, moriranno in milioni, in una torre non dico altro, bellissima la storia, l'idea. Di fatto tutta la trama li converge verso la città, che vi dicevo prima di Karstad. Ecco, una volta che vi trovate a Karstad comincia a trarre la trama, la trama che è incomprensibile, molto distante in realtà, perché adesso si pensa di trovare un modo per salvare la città, o più persone possibili magari dalla riscesa dell'esercito, dove in realtà la storia è completamente diversa, e più si sta intorno, più arrivano eventi eccezionali, per esempio un uomo, uno degli incontri casuali che si può fare, è un uomo che si sta grattando via la pelle, come se fosse assaltato a qualcosa, fino al punto di sgozzarsi di fronte ai giocatori. Troveranno dei rest, troveranno una tigre di vetro, che va a caccia di persone e bambini nelle campagne. Queste sono cose che si possono trovare intorno al setting. Sono cose completamente allenate, viste singolarmente, ma in realtà tutto ha una trama dietro, che porta a un'avventura calcolata per livelli 1-4, ma ad una mortalità spaventosa, specialmente più va avanti, la crescita è esponenziale, ed è palese che l'avventura si concluda, se qualcuno mai pensa di raggiungere il fondo, in un qualcosa di ben oltre il livello del drammatico. ci sono delle idee che sono anche fastidiose da mettere in campo, e dei personaggi con cui si va a relazionarsi, la cui livello morale è talmente basso, per quanto ci si sia obbligati a interagire nella trama, visto di fronte a un male assoluto molto più grande, perché non può sembrare, ma questa storia del dio insetto in realtà fa parte integrante, la trama è qualcosa che sta sotto tutto questo, e può essere vista un po' ovunque, questa compresenza di insetti. Beh, ci si trova a dover relazionarsi con delle persone che oggettivamente hanno delle moralità inconcefibili. L'idea degli insetti si nota anche nel manuale, il manuale si presenta in maniera molto tranquilla, fin dall'inizio, quasi in maniera storica, e più va avanti nella lettura, più la presenza di qualcosa di insetti ai margini del manuale si notano, come se fosse proprio di illustrazioni, fino ad arrivare al fatto che questi insetti cominciano sempre di più a perdere i lineamenti di una realtà, e diventare sempre di più oggetti metaplanari o dimensionali. non andrò in dettagli su questo, vi posso dire che intorno alla città ci sono molti altri hotspot, luoghi importanti per la trama, tra cui non vi dicevo la Endless Tower, ma ce ne sono molti altri, di cui uno, con vari trucchi, può permettere l'aggancio alla trama complessiva, in un senso abbastanza... in un senso, no, non positivo, però in un modo che in qualche maniera può aiutare a portarla avanti, mettiamola in questa maniera, ed in generale uno dei principali punti, come sempre nell'avventura e la Mention, è oltre al discomfort voluto nella lettura e nel gioco, e l'estrema mortalità, l'avventura è sgradevole da vivere, è molto divertente da giocare, ma è clamorosamente sgradevole da vivere, oltre al discomfort e ai temi che vengono toccati, estremamente dolorosi, molto crudi, violentissimi, la caccia alle streghe è una delle primissime cose con cui ci si relazionerà nell'avventura, ed è solamente la punta di un iceberg molto profondo, di depravazioni umane, perché questo è quello che poi è nell'avventura che è scritta, come sempre se dovessi arrivare in fondo e tirare una linea del giusto, del buono, è difficile. C'è sicuramente all'interno di tutta l'avventura un qualcosa di inumano, e di conseguenza non calcolabile dal punto di vista degli uomini, e questa cosa è naturalmente deleteria per l'umanità, ma agli uomini stessi presenti non ce n'è uno che realmente sia un personaggio positivo in tutta l'avventura. Così come parte il presupposto spesso che non lo siano giocatori. Nota divertente, non vi vedrò dove, ma a un certo punto Raggi ha messo delle trappole per i giocatori, ovvero ha messo delle situazioni in cui fa trovare degli oggetti, degli oggetti altamente tecnologici, e li descrive con estrema attenzione e dovizia di particolari. chiunque nella realtà riuscirebbe a capire cos'è, e se fa l'errore di usarlo, attenzione e spoiler, nel modo che ci si aspetta nella realtà, è lì che la trappola scatta al massimo, ovvero ha creato una trappola di metagioco, in cui fa sì che se il giocatore metagioca su quello che si trova di fronte, viene punito in termini di gioco e nel personaggio. Cosa posso aggiungere? Poco, perché sennò andrei a spoilerarvi. Cosa posso dirvi di Better the Anime N? Emma Studontica. Non mi aspettate un'avventura di 96 pagine. In realtà è un'avventura gigantesca, è violentissima, pesantissima, e difficilmente può essere vista o vissuto giocata tutta. Punisce qualsiasi approccio ipocrita in maniera molto violenta e non vuole essere amichevole, non vuole essere un'avventura giocata. Ho trovato affascinante, ho trovato molto affascinante la scrittura di Raggi, che è veramente coinvolgente, che riesce a portarti fino a un passo, in alcuni punti, dal disgusto, ma torna rapidamente indietro, impedendoti di cadere troppo in fondo. Naturalmente le illustrazioni poi mettano la ciliegina sulla torta. non è una cosa per tutti. Infatti l'edizione del Free RPG Day uscì come mature content e solamente per i maggiorenni. Direi che è un'ottima analisi per dividere chi può e chi dovrebbe alla fine fine leggere o giocare questa avventura e tutto il resto. Basta! Better than any man! Ciao!